bentornati nel mio canale con un nuovo tutorial oggi lavoreremo una maglia corta non molto lunga adatta per mettere sulle camice e la lavorazione a pannelli scelto il filato polo nella versione di tre colori il celeste il rosa e il panna per quanto riguarda il punto un punto traforato multiplo di 5 una lavorazione molto semplice è l'uncinetto che sto usando l'uncinetto del 4 però sull'etichetta è indicato l'uncinetto del 3 e 3 mezzo sono gomitoli da 50 grammi e il file lungo 200 metri quindi è una buona resa se volete potete anche realizzarla con un colore unico per quanto riguarda la lavorazione ho fatto delle fasce che non sono regolari infatti ho iniziato con il celeste e per quanto riguarda la misura del celeste sono 19 centimetri poi ho tagliato il filo e ho lavorato con il rosa con il rosa ho lavorato all'incirca 15 centimetri e poi 4 centimetri con il bianco con il panna scusate quindi la maglia misura 50 di larghezza e per quanto riguarda la lunghezza sono all'incirca 40 centimetri dobbiamo prendere la nostra circonferenza ho voluto farla non molto lunga perché poi si può usare la sera quando fa un po più più freddo invece di mettere già i giubbotti metteremo questa maglia corta con sopra le camicie quindi dà un effetto molto bello come avete visto nell'anteprima iniziale per iniziare la lavorazione dobbiamo prendere la nostra circonferenza e dividere a metà siccome è corta io ho preso la circonferenza del seno e nel mio caso sono 47 centimetri però ho voluto aggiungere qualche centimetro in più per avere una maggior comodità se invece la volete fare più lunga l'importante che prendete la circonferenza più sporgente che sarà o quella dei fianchi o quella del seno e avviate le catenelle il multiplo del punto è di 5 e adesso possiamo iniziare con il tutorial quindi una volta che avete preso la vostra semicirconferenza dividete a metà avviate una catenella pari alla vostra metà visto che stiamo lavorando a pannelli nel mio caso ho avviato 85 catenelle che è multiplo di 5 e in centimetri abbiamo 50 centimetri ho voluto farla un po più comoda se voi volete aumentare la taglia dovete aggiungere sempre 5 catenelle in più aggiungendo 5 catenelle avrete un motivo se aggiungete 5 più 5 quindi 10 catenelle avrete due motivi per aumentare la taglia dovete aggiungere due centimetri in più una volta che avete stabilito la vostra semicirconferenza io adesso vi faccio vedere con un campione il motivo del punto avete avviato le vostre catenelle multiplo di 5 dovete aggiungere 3 catenelle in più che la nostra prima maglia alta quindi 1 2 e 3 salto 1 2 e 3 e nella quarta catenella lavoro una seconda maglia alta due catenelle di separazione salto 1 e 2 vado nella una seconda maglia alta una seconda maglia alta e una terza maglia alta 2 catenelle di separazione salto 2 1 e 2 vado a fianco e lavoro la prima maglia alta una seconda maglia alta e una terza maglia alta questo è il motivo che dobbiamo ripetere per tutta la riga quindi 2 catenelle salto 1 e 2 nella terza catenella lavoro la prima maglia alta a fianco 2 e a fianco 3 1 e 2 salto 2 vado nella terza lavoro la prima maglia alta una seconda maglia alta una seconda maglia alta e una terza maglia alta arrivata al termine del giro faccio le due catenelle salto 1 e 2 e vado a concludere la riga come abbiamo iniziato con 2 maglie alte e il primo giro è terminato giriamo il lavoro mi alzo con 3 catenelle che la mia prima maglia alta salto le due maglie alte vado dove ho le due catenelle e all'interno devo lavorare 3 maglie alte 1 2 e 3 1 catenella rientro nello stesso punto e di nuovo 3 maglie alte 1 2 e 3 questo è il motivo che dobbiamo ripetere per tutta la riga salto le 3 maglie alte vado dove ho le due catenelle e ripeto 3 maglie alte 1 2 e 3 questo è il motivo che dobbiamo ripetere per tutta la riga quindi salto le 3 maglie alte qui ho le due catenelle e all'interno lavoro 3 maglie alte 1 2 e 3 e 3 catenella e 3 maglie alte 1 2 e 3 arrivata al termine del giro ho le ultime due catenelle e ripeto la lavorazione del motivo di 3 maglie alte 1 2 e 3 vado a chiudere come abbiamo iniziato con una maglia alta quindi vado sulla seconda maglia alta e lavoro l'ultima maglia alta del giro questo è il secondo giro giriamo il lavoro e dobbiamo lavorare il terzo giro il terzo giro è uguale al primo quindi dobbiamo lavorare 3 maglie alte 2 catenelle però siccome abbiamo una base diversa le 3 maglie alte le andremo a lavorare all'interno della catenella di separazione quindi mi alzo con 3 catenelle che è la mia prima maglia alta più una di separazione vado dove ho la catenella di separazione del motivo sottostante e lavoro 3 maglie alte 1 2 e 3 2 catenelle vado di nuovo dove ho la catenella di separazione all'interno lavoro 3 maglie alte 2 catenelle qui ho la catenella di separazione di nuovo all'interno 3 maglie alte 1 2 e 3 e ripeto questo per tutto il giro quindi nella catenella di separazione lavoro 3 maglie alte e 2 catenelle di separazione sono arrivata anche al termine di questo giro e come abbiamo iniziato vado a fare una catenella di separazione e chiudo con una maglia alta sulla maglia alta sottostante adesso dobbiamo lavorare il quarto giro che è uguale al secondo solo che cambia l'inizio e la fine quindi i giri che dobbiamo ripetere sono 4 giro il lavoro e lavoro 3 catenelle che è la mia prima maglia alta più una di separazione all'interno della catenella vado a lavorare 3 maglie alte 2 e 3 perché iniziamo con metà motivo non faccio la catenella vado direttamente dove ho le catenelle di separazione e all'interno lavoro 3 maglie alte quindi ripeto le 3 maglie alte la catenella di separazione e sempre 3 maglie alte 1 2 e 3 stiamo ripetendo il giro numero 2 quindi mi sposto dove ho le catenelle e vado a lavorare 3 maglie alte 1 2 e 3 catenella e 3 maglie alte sempre all'interno delle 2 catenelle di separazione proseguo questo per tutto il giro una volta che terminiamo questo giro dobbiamo ripetere dal giro numero 1 quindi però siccome se abbiamo sempre una base diversa le 3 maglie alte le andremo a lavorare all'interno della catenella concludiamo questo giro come abbiamo iniziato quindi dove ho la catenella all'interno lavoro 2 1 2 e 3 maglie alte catenella e maglia alta sulla maglia alta sottostante e questo è il motivo e i giri che dobbiamo ripetere devo andare a ripetere il giro numero 1 e vi faccio vedere come dobbiamo lavorare perché abbiamo anche qui una base diversa quindi giro il lavoro e lavoro 3 catenelle che è la mia prima maglia alta e nella catenella di separazione un'altra maglia alta 2 catenelle di separazione vado direttamente salto questo motivo vado dove ho questo motivo e all'interno della catenella lavoro 3 maglie alte 1 2 e 3 2 catenelle salto le 3 maglie alte vado all'interno della catenella per lavorare 3 maglie alte 1 2 e 3 2 catenelle e sempre all'interno della catenella di separazione lavoro 3 maglie alte e continuo questo per tutto il motivo e poi dobbiamo ripetere dal giro numero 2 iniziando con una maglia alta senza fare le catenelle e andare a fare all'interno delle 2 catenelle di separazione 3 maglie alte una catenella e 3 maglie alte dobbiamo poi ripetere il giro numero 3 iniziando con una maglia alta e una catenella di separazione poi ripetiamo il giro numero 4 che è l'ultimo giro del motivo dove andremo a lavorare una maglia alta, una catenella e metà motivo andiamo a concludere questo giro lavorando 2 maglie alte all'interno della catenella di separazione una maglia alta nella catenella e una maglia alta sulla maglia alta sottostante giro il lavoro e vado a ripetere il giro numero 2 quindi mi alzo con 3 catenelle che è la mia prima maglia alta all'interno delle catenelle lavoro 3 maglie alte una catenella e 3 maglie alte 1, 2 e 3 salto queste 3 maglie alte vado all'interno delle catenelle per ripetere la lavorazione del motivo una catenella e di nuovo 3 maglie alte proseguite questo fino a terminare la riga e dobbiamo concludere con una maglia alta sulla seconda maglia alta quindi chiudiamo questo giro con una maglia alta sulla seconda maglia alta giro il lavoro e vado a lavorare vado a ripetere il giro numero 3 dove dobbiamo iniziare con 3 catenelle più una di separazione vado a lavorare all'interno di ogni spazio di una catenella 3 maglie alte quindi 1, 2 e 3 facendo sempre 2 catenelle di separazione quindi vado dove ho lo spazio della catenella di separazione e lavoro 3 maglie alte 2 e 3 e 2 catenelle proseguite questo e vi faccio rivedere l'ultimo giro poi dobbiamo proseguire per la nostra lunghezza vado a lavorare una maglia alta giro il lavoro e vado a lavorare l'ultimo giro che è il quarto e quindi poi dobbiamo ripetere sempre questa lavorazione quindi mi alzo con 3 catenelle che è la mia prima maglia alta più una di separazione all'interno della catenella lavoro solo metà motivo che sono 3 maglie alte mi sposto dove ho le catenelle di separazione e vado a ripetere 3 maglie alte 1, 2 e 3 una catenella e sempre all'interno 3 maglie alte quindi adesso continuate il motivo fino alla lunghezza che voi volete nel mio caso ho fatto 40 cm ma se la volete più lunga potete andare avanti con i giri andate a ripetere sempre questi 4 giri una volta che avete lavorato i vostri due pannelli trovate il vostro diritto e il vostro rovescio però siccome abbiamo lavorato in giri di andate e ritorno non abbiamo un dritto e un rovescio lo stabilite voi per quanto riguarda le fasce come vi ho detto prima non sono fasce regolari ho voluto fare così quindi per quanto riguarda il celeste ho all'incirca 20 cm per il rosa 15 cm e 4 cm con il panna per lavorare la scollatura trovate la metà per avere la scollatura del collo e la spalla vi trovate la metà e vi spostate io nel mio caso ho fatto 11 cm da un lato e 11 cm dall'altro quindi ho 22 cm per la scollatura per il collo e invece per quanto riguarda la spalla ho tutti questi cm la scollatura per quanto riguarda la profondità dello scalfo ho fatto 17 cm quindi se avete una taglia M 17-18 cm va bene una taglia L 19-20 cm va bene quindi stabilite pure voi la profondità dello scalfo in base alla vostra taglia se volete la manica siete una taglia M e volete una manica più larga scendete a 18-19 cm una volta che abbiamo fatto questo adesso andiamo a cucire il nostro pannello per quanto riguarda le cuciture facciamo le cuciture laterali con i colori dove abbiamo lavorato nel mio caso con il celeste vado a cucire la parte del celeste con il rosa vado a cucire quel poco di rosa e con il bianco vado a cucire sulla spalla e poi andiamo a riprendere la manica intorno allo scalfo quindi vado a cucire prima con il colore blu con ago e filo dovete mettere bene i motivi così quando una volta che andiamo a girare dal diritto non abbiamo il motivo sfalzato quindi vado a lavorare prendendo con piccoli punti il davanti e il dietro faccio questo poi vado a lavorare questo pezzettino di rosa con il rosa e il bianco sulla spalla una volta che avete cucito i due pannelli potete girare dal diritto e adesso lavoreremo la manica come vedete l'abbinamento di colori è molto carino è adatto anche da mettere sui jeans infatti i colori pastello sono anche di moda per questo autunno inverno per quanto riguarda la manica andremo a riprendere le maglie in tondo quindi lavoreremo in tondo ciò significa che non inizieremo con metamotivo o finiremo con metamotivo ma con motivi interi però per quanto riguarda le maniche vado a lavorare solo con il rosa quindi sempre con l'uccinetto numero 4 dal sottomanica vado a riprendere la lavorazione quindi inizio con le 3 maglie alte e 2 catenelle di separazione inizio proprio qui dove ho il sottomanica faccio un cappietto mi alzo con 3 catenelle 1, 2 e 3 e vado a lavorare altre 2 maglie alte nello stesso punto 1 e 2 2 catenelle di separazione vediamo se così si vede bene vado dove ho lo spazio disponibile quindi entro in questo spazio e lavoro altre 3 maglie alte 2 catenelle vado in questo spazio e lavoro 3 maglie alte 1, 2 e 3 se casomai avete lo scalfo molto largo quindi approfittate in questo giro per fare delle diminuzioni 3 maglie alte e salto un motivo e vado nella maglia alta successiva terminato questo primo giro e chiudo con una maglia bassissima nella terza catenella mi sposto con maglie bassissime dove ho le 2 catenelle di separazione e qui all'interno lavoro 3 catenelle che è la mia prima maglia alta e altre 2 maglie alte una catenella e di nuovo 3 maglie alte 1, 2 e 3 il motivo non è cambiato solo che lavoriamo un motivo intero vado direttamente dove ho le catenelle e lavoro di nuovo 3 maglie alte 1, 2 e 3 catenella e 3 maglie alte vado avanti in questo modo vi faccio vedere come ripartire terminato questo giro vado a chiudere sempre con una maglia bassissima e con maglie bassissime vado al centro della catenella di separazione per iniziare il giro di 3 maglie alte 2 catenelle e 3 maglie alte quindi inizio con 3 catenelle lavoro altre 2 maglie alte all'interno 2 catenelle di separazione qui ho la catenella e ripeto le 3 maglie alte quindi vado avanti con il motivo fino alla lunghezza della manica e vado a lavorare solo con il color rosa se voi invece volete continuare con le righe basta che tagliate il filo e cambiate il colore vado avanti in questo modo e poi vi faccio vedere quanto è lunga la mia manica sono andata avanti con la lavorazione della manica per un totale di 35 cm e questo è il risultato come vedete io ho iniziato il motivo come abbiamo lavorato la maglia quindi con 3 maglie alte al primo giro e il secondo giro nello spazio delle 2 catenelle 3 maglie alte una catenella e 3 maglie alte poi ho voluto la manica un po' più stretta e per quanto riguarda le diminuzioni che se volete fare è togliere una maglia alta ad ogni motivo quindi invece di 3 maglie alte ho lavorato 2 maglie alte nello spazio della catenella di separazione anche il motivo ho fatto 2 maglie alte una catenella e 2 maglie alte e misurandomi sono trovata bene con la larghezza quindi voi andate avanti con la lavorazione la stessa cosa dobbiamo fare dall'altra parte se per voi la manica è giusta io non la volevo molto larga continuate il motivo come abbiamo iniziato se invece volete iniziare con la manica larga e puoi stringere un poco basta togliere ad ogni motivo una maglia alta quindi invece di 3 2 maglie alte e anche quando facciamo il ventaglietto invece di 3 2 maglie alte una catenella e 2 maglie alte fino alla lunghezza che voi volete questo è il risultato una maglia molto semplice carina e adatta per questi periodi sotto una camicia o sotto una canotta va benissimo l'abbinamento di colore mi piace molto se volete invece voi usate un colore unico dipende poi dal vostro gusto della vostra fantasia detto ciò il mio tutorial finisce qui se vi è piaciuto mettete un like iscrivetevi al canale o un gruppo facebook che si chiama le creazioni di carola e le amiche di uncinetto ci vediamo a presto e grazie per la visione ciao